Fino al 20 luglio del 2014 a Palazzo Strozzi a Firenze la mostra di Pontormo e Rosso Fiorentino, divergenti vie della maniera. Nel 1956 Palazzo Strozzi ospitò la mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino. Si trattava della prima importante rassegna dedicata al protagonista di un movimento che aveva da poco avuto una piena rivalutazione critica. Quasi 60 anni dopo Palazzo Strozzi ripropone una mostra dedicata ai due soli protagonisti di quel movimento Pontormo e Rosso Fiorentino. Entrambi nacquero nel 1494 al chiudersi di un secolo che per Firenze e l'Italia aveva visto rompersi un equilibrio politico che aveva garantito prosperità e sicurezza e aprirsi una travagliata età di scontri religiosi e politici che portarono a un mutamento definitivo degli equilibri fra gli stati ma anche a infrangersi di armonia e equilibrio delle arti che avevano caratterizzato il passaggio dal 400 al 500. Attraverso le opere dei due massimi protagonisti fiorentini di quella pittura che la critica novecentesca ha definito manierista la mostra intende seguire lo svolgimento cronologico di quel movimento che Giorgio Vasari colloca agli inizi della maniera moderna e che prende l'avvio sia per il Pontormo che per il Rosso Fiorentino in rapporto con Andrea del Sarto. Subito nella prima sala si vede quanto diverse siano le loro strade. Partono dall'affresco di Andrea del Sarto al Chiostino Devoti, si allontanano con due affreschi sempre del Chiostino Devoti dipinti da loro sul 1514 e in queste vie si vede espressive diverse, si vede da parte dell'uno la disposizione all'eclettismo cioè all'assunzione da varie fonti culturali. Invece nel Rosso Fiorentino si vede l'adesione forte alla tradizione più nobile fiorentina anche da un punto di vista ideologico e politico. L'uno, Pontormo, attento alle cose d'Oltralpe con Dürer e il resto delle espressioni d'Oltralpe e il Rosso Fiorentino invece legato al linguaggio e all'ideologia dell'umanesimo fiorentino però con una spregiudicatezza interpretativa che lo rese difficile di comprensione anche ai suoi contemporanei. Come nel caso della recente e fortunatissima mostra della Bronzino si è preferito puntare su un percorso ampio e articolato dei capolavori dei due sommi artisti privilegiando lo splendore formale e l'altissima poesia del Pontormo e del Rosso tale da renderla leggibile e chiara non solo agli specialisti ma anche al grande pubblico attraverso sezioni tematiche disposte in ordine cronologico.